Grazie agli stanziamenti dello Stato che consentiranno di avviare una lunga lista di cantieri per la sicurezza idrogeologica e ripristino delle aree maggiormente colpite dall'organo Vaia, ci saranno anche le disponibilità economiche per il risarcimento dei danni patiti dai privati. Con il trasferimento di 756 milioni nel Veneto e per il triennio 2019-2021 sono arrivati anche i 172 da impiegare per i danni. L'erogazione seguirà alcune linee guida. Innanzitutto servirà la segnalazione del danno completa di perizia. Poi doppio binario per privati e aziende. I primi avranno una soglia massima di 5.000 euro mentre le imprese arriveranno a 20.000 con l'estensione della copertura anche a macchinari e materie prime. Verrà risarcito l'80% del danno certificato. In questo senso le foto scattate nei giorni dell'alluvione e le fatture conservate dopo le riparazioni potrebbero tornare molto utili. Nel frattempo la regione dovrà decidere in che modo impiegare i quasi 5 milioni di euro raccolti attraverso il conto corrente per le donazioni, aperto in fase emergenziale, e il numero per gli SMS solidali.